Allora, benvenuti a tutti ragazzi sono XX Tony che parla e oggi ragazzi sono qui per fare la mia prima live sul canale Ragazzi, aggiungiamo subito subito i 5 iscritti ragazzi, perché questa è la prima live che faccio E ragazzi non mi preoccupate perché, allora, domani, dopo domani caricarò, cioè, sì, carico due video C'è uno domani e un altro dopo domani Allora, c'è, il primo, il primo è, come dire, il primo è, come dire, perché tengo UFIFA17, UFIFA5 e UFIFA5 Quindi non so su quale video vi porterò Vi posso portare il video della, di GTA UFIFA17 Allora, per questa volta facciamo prima GTA, ok? Una bella raga Allora, aggiungiamo subito i 5 iscritti e bella raga